ok riprendiamo la nostra esplosizione nel 9 grad questo insomma più bene 9 grad allora missioni facciamo questa qua a ticino scuro un'essere secondaria usi sensi da witch per espressione la dimora di ae ramas che vista 1977 piedi di distanza ok quindi andiamo qui un'essere secondaria allora andiamo cerchiamo la strada non ti posso correre ok allora posso correre movi un'essere 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 bella la dimora un'essere 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' di luce. Mai dire mai Geralt, mai dire mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non c'è nulla. Da che parte devo andare? Grazie a tutti. Grazie a tutti. La domanda è... Devo andare per di qua? Grazie a tutti. 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 No, lo so. Allora, dove andiamo adesso? Missione. Più che mappa, missioni secondarie. Prendete tutti e la stiamo facendo. Master Fabbro, ancora ciugola un pochettino. Io questa l'aspetterei un attimino perché vorrei finire il gioco base. Ok. Torno a vent. Il problema di fare vent è fare questo allo stesso punto. non ciugola un pochettino. Non ciugola un pochettino. Non ciugola un pochettino. che la farà. Non ciugola un pochettino. Risa. Grazie. Parica quanto ci vuole, non hai detto mod. Ah, ok. Per di qua. E no. L'enticazione è stata, li lascio una volta a desiderar. Oh, ah. Well, well, another freak. Eh, no. Oh, greetings, uh. Don't fret. I'm sure I look quite different from when we last saw each other. Ah, which was? Oh, eons ago. You and Master Dandelion appeared, two halflings in tow. What a smash they were, the little chaps. We look out that night to this day. So the, uh, staff hasn't changed since then? Oh, of course it has. It does so incessantly in this business. Burly Burphy married a merchant. Ella struck out on her own. And you'll likely find Cerise praying at the temple. I alone remain. So, shall I summon the girls? Just remember, this is a decent establishment. Support to yourself to start with. And our girls are well-mannered. The range of subjects they discuss in detail. I myself find the authority in the show. Che cosa vuole comprare? Che vende, scusami. Uh, carte. Ma veramente? Questo è scioccante. E... Vida Gwent. Uh, bella. 32. 32, 32. Io a sto punto con 32. Caccio. Questa. Però me ne manca una. E devo ottenere comunque una carta. Tengo questa. Eh, sì. Questa per forza. Va bene. Iniziamo. Questa la tengo. Questa la butto. Quella la buttiamo pure. Ok. Ok. Ok, no. Questa la butto. 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 Questa la butto la butto. va bene collo e questo vuoi ancora giocare ok pioggia è semplice anche qua pioggia giusto sì e mi gioco questo questo mi è piaciuto questa giocata si andiamo ok sì ma gioco qua perché tanto ma questo è perso è piaciuto è piaciuto se è stato un po bastardo quindi posso giocare o questo o questo no non lo fa giocare in realtà è quello questo ok ti gioco questo che mi dà questa mi gioco questo potrei andare meglio ah così me l'ho divinto ok grazie allora missione secondarie e puntate alte ancora no pugni furiosi possiamo fare questa ah è qua vicino allora qua andiamo a piedi ok 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 C'è un mercante qua? Ah, sempre tu, la libraria, non mi interessa. C'è un mercante qua? 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 C'è? C'è? C'è un mercante qua? C'è un mercante qua? Il mercante qua? C'è un 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 mercante qua? 60, 70. E... Vabbè, dai. Dai, gioca. Giustamente li piazza tutti qua, li porta adesso. Ehm... Ehm... Eh, devo giocare. 6-6-12. E 12 fa 94. Cavolo. Eh, l'ho giocata male, l'ho giocata. Perché c'è... 6-8-14. 96. Questa... è un mercante qua? Questo è un mercante qua? 5-9-15. Comune l'ho giocata. 6-3-15. O-0-0. 6-3-15. Non ci voleva questo. 6-1-15. 9-15. 6-4-5. 5-12. 6-4-15. 6-3-15. 6-4-15. eh bastardo niente terzo riproviamo non 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 ma quante carte da dieci questo e tepe 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 non so se usare questo Adesso No lo usiamo dopo Mi porto questa vittoria Mi prendo Mi prendo Ok Non mi interessa No 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 Pareggio Vai gioca ancora Eh questo fa schifo Caccia questa Eh Perché non me le fa cacciare Vabbè Grazie Perché non va Io faccio Non voglio abbandonare No 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 a distanza nooo quanto sono deficiente quanto pure questo è perso a tre carte in più dopo che vado grazie a tutti grazie a tutti vabbè non me la fa giocare e non giochiamo 45 qua non fa niente ok no è da qua non ci sono è Ibir Hattori. Ah, davvero, sono. Geralt di Rivia, ho sentito molto buoni sui. Un piacere, Geralt, come posso te aiutare? Voglio provare un pochino? Sto cercando un buon soldatore, nessuno. Tre soldi suoi, un pochino, non ti pensi? Un pochino, ma tutto ciò che faccio, non ti rende soldi ancora? Sì, sono i buoni, devo fare un lavoro. Ma mi mi piace il hammer, anvil e belloz. Oh, il il giro della forza. Non per questo sguivante Van Horn. Non so cosa stai parlando. Non non posso incontrare un buon soldatore con le buoni. Come, mi mostro un pochino. Beh, già. La pagina è migliore, ma prima di tutto è più sicuramente, i venditori di alimentare non sovrapposti. Che gusto? Cosa controlla il mercato di Novograd? Non esplicemente, ma tutti i servizi passano per Ernst Van Horn. E dicono che gioca le carde con cleaver, frequentemente. Che ho provato a negociare, fendere un negoziare. Con Van Horn? E tu, il proprio abbastanza. Che gioco a giocere dai corpi e pagare, o andare a fare un negozio. Ho vedo. Ma non mi nemmeno rispondere. Le prodigio hanno provato un'ottima fonte di inglese. È solo... No... Hai scoperto il foglio della Forge. Hai provato a prendere suppi da qualcuno? Esche roghe del mondo controllo tutte le fondazioni. Come sono io a parlare con loro? Se... Hai potuto me aiutare? Come? Hai potuto me aiutare a prendere suppi? Come? Voi con me a un meeting. Come mio guarda, mi abbastanza la mia confianza. Chiaramente, non so long ago, ho provato a negociare alcuni dei sottotitoli con uno dei King of Beggar's Men. Credo che sia importante nel mondo mondo? Sì. Più di più, è sui termini con Cleaver, che torna Van Horn. È solo... Ha chiesto un grande maggior parte dei profiti. Credo che potresti aiutare a negociare. Non mi chiedo gratis, e sicuramente potremmo accettare su un tema. Non mi chiedere qualcosa da tua ricerca? Oh, non mi chiedere questo. Grazie a tutti. Sì, ok, ma io stavo facendo tutt'altro. Pugni furiosi. Il nome è Geralt. Patty Gruber, sono un bookie. Mi credo che tu sia... Sono pronto. Sì, senti questo? Fai! Sì, combattiamo. Sì, senti questo? Sì, senti questo? Sì, senti questo? Andiamo dai. Sì, senti questo? Dove cavolo era? Sì, senti questo? Sì, senti questo? No, va bene. E la libratore dov'è? Eccolo qua. Ho sbagliato. Vabbè. Abbastanza veloce, è rapido, è indolore. Ok, grazie. 380. Andiamo. Come on. Il campione di nuovo grad è un sarto. Interessante. Il campione di nuovo. Il campione di nuovo. Ok. Il campione di nuovo. 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 è lo perso che stai Grazie a tutti Grazie a tutti Non ho capito come ho recuperato vita però Mi rimasta solo Skelliga Grazie Allora Come on Roach Giddy up Allora 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 Questa Qua Torre da serio Andiamoci Questa è caccio Zola Dai 5 Eh no Allora Allora Ti do caccio Questo Perfetto Perfetto Allora 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 Ok 20 E mi gioco Questo Questo Ok Ok Si Va bene Eh non mi ricordo quanti sei mi pare forse Perfetto Perfetto La miseria Sono 18 36 36 36 36 36 40 46 Questa è a 56 Devo passare per forza Porca miseria Porca miseria Unic Di państwo Il ái Ok Dio una carta notata, perfetto Non piace la gente che qui qui? Oh sì? Beh, hai una carta che hai bisogno di un'uno per ridurre? E ho sentito sui notizzi Supervisor Lund posti Si, una carta che ha chiesto la parte a la parte a la gente Non riesce a lasciare i lasciare i sui i sui i sui i sui Mi cercano a scocciare questo monstero best hurry then some other blokes already after it who took the contract didn't see the man was just told some brave fool turned up any eyewitnesses to these attacks no just the body beast appears only at night chooses isolated victims when do you find the last victim just last night a huger a beggar but a decent man i'd let him sleep in the shed from time to time that one on the right eustace hasn't come for the corpse yet he's lying in there where i found him thanks so long blood but not human monster was wounded blood's all sucked out a lesser vampire not the marks of a garking or a flutter it's gotta be an ekimara e per forza e per forza rat corpses not a drop of blood left in him gotta be an ekimara lambert greetings lambert damn it's good to see you wolf decide to do some hunting in novograd far as i remember you never liked this city still don't thing is i got a certain matter to take care of the matter you mentioned anything i can help with maybe but we'll talk about that later got our reward to collect i'm kinda in a hurry let's say you've earned half let's go so what do you think we did what we had to do time to pay up wait here i'll go see the supervisor get your reward do that ourselves no reason you should abandon your post hmm 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 can't argue with reason go on in we dealt with the monster at the docks here for our reward here for our reward witches since when do you travel in pairs a lot of dangers lie in wait for a lone witcher bandits for example i advise you to change your tone where's yad keratin talk lambert calm down trust me gerald this is important there's something i gotta know i do not know any keratin take your coin for the before and bugger off before i lose my temper where's yad keratin asking you for the last time gerds to the dungeon with them ehh manager lambert this guy's more trouble than the akimara the keratin's disappeared i swear the others too i only know of vienna what about vienna she drinks at the seven cats they're day and night see you can be helpful you crazy what the hell are you doing i can explain everything ma la ricompensa è tutto questo tiến i for la le like un 装 Grazie. Una versione qualunque. Grazie a tutti. 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 Morto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.